Buona sera Gianmarco Acervi con i gol di Gliattoli dentro di Torre Colpato Metto! Un bom passetto di Pione Incredibile Lui è fra le giocate più difficili e spettacolari da vedere sul campo di calcio Conrero, portiere, rovesciata Che giocatore pazzesco Pazzesco 3 a lezione Bayer 3 a 0 Ancora Fiore che ci mette in piedi Ecco, lo marchiamo Chiudate Chiudate Un bambino Pazzesco Un bambino Un bambino Un bambino Sperto ai naghi Che controlla è Garza Avvenuta 5 a 0 E' un'altra parte. Tranquilli ragazzi, tranquilli Per Martelli E' un gioco troppo facile E' un gioco troppo facile E' un gioco Martelli Al gioco 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 C'entrò forse i pazienti che si arrivano per il gioco. E manda il quadro di Spogliatoi. Il posto a zero per Natale.